ciao a tutti io sono marco migliorini tecnico formatore per oikos oggi ci troviamo in oikos academy web e sono qui per presentarvi un prodotto biodecorativo della linea white la linea white di oikos è la linea biodecorativa di biopitture che si differenzia da qualsiasi altra linea di prodotto per essere l'unica in commercio ad avere totalmente sia le pitture lisce piatte sia i decorativi totalmente esenti da da formaldeide o da conservanti quindi abbiamo un prodotto una gamma di prodotti completa che ci permette di lavorare in estrema tranquillità sia l'operatore che va applicare questi prodotti ma soprattutto la persona o le persone che abitano quegli ambienti che vengono trattati con i nostri bioprodotti che siano biodecorativi o biopitture questa è una cosa molto importante perché comunque a oggi ci troviamo ancora nelle condizioni di dover dire che gli ambienti outdoor con l'uso di della formaldeide soprattutto è abbastanza inquinato la formaldeide è un conservante che viene immesso in tutti i materiali e è stato testato che nel lungo uso e quindi negli ambienti in cui vengono vissuti a contatto con questi conservanti può generare anche malattie gravi. L'impegno di Oikos è sempre stato quello di produrre prodotti a basso impatto ambientale già dall'84 e siamo arrivati alla maturazione con questa linea di prodotto ad avere prodotti in classe A+, senza formaldeide. Oggi vi presentiamo nello specifico il biodecorativo 460 effetto lo vedete effetto sabbiato metallizzato che ci dà l'opportunità di riprodurre delle finiture medio basse con effetti metallizzati e all'interno una micropolvere di farine di quarzo e inerti selezionati. Queste sono tre finiture che vi farò vedere oggi questa è una seta grezza indiana molto semplice ma di effetto questo è un effetto verticale ok effetto verticale seta verticale e questo è un effetto metallizzato sabbiato effetto soft touch perché soft touch chiaramente dal video non ve lo posso far toccare però l'effetto finale è un effetto tattile molto piacevole e se lo vedete ha questi riflessi di movimento che vengono generati dall'applicazione in due mani. La cartella colori come vedete si compone di 36 tinte per quanto riguarda i biodecorativi mentre per la linea biopitture abbiamo introdotto le tinte medie e da quest'anno sono state introdotte anche le tinte forti ok oggi vi farò vedere come vi dicevo queste tre lavorazioni e vi andrò a spiegare nello specifico tutti gli attrezzi tutte le accortezze che servono per andare a riprodurre questi effetti abbastanza semplici da riprodurre. Facciamo già una premessa che sicuramente è una domanda che viene viene fatta spesso e volentieri in continuazione come vedete i tre effetti sulla superficie se non toccandoli sono abbastanza piatti quindi per la buona riuscita di queste lavorazioni il supporto deve essere perfettamente planare planare cosa vuol dire liscio cioè io parto da una base liscia quindi deve essere stuccato in maniera idonea carteggiato poi viene deve essere fissato con un fissativo trasparente all'acqua chiaramente e successivamente viene applicato un prodotto di fondo che mi permetta di lavorare con questi prodotti che adesso vi andrò ad elencare. Allora per la prima lavorazione il metallizzato sabbiato quindi questa andremo a trattare la superficie che sarà preparata adeguatamente quindi liscia con il prodotto bio pittura 305 che è il nostro bio super lavabile è un prodotto molto performante che si usa solitamente in condizioni di richiesta di lavabilità sulle superfici in questo caso lo utilizziamo come fondo di preparazione lo stenderemo in una mano a asciugatura completa quindi rispettando sempre le 4 barra 6 ore di asciugatura andremo ad applicare il prodotto il prodotto 460 che lo vedete nella sua confezione packaging da un litro 0,750 e come vedete anche nella etichettatura abbiamo i nostri simboli per quanto riguarda la classe a più che lo scrive lo riportiamo e tutti i simboli che riportano il made in italy il rispetto dell'ambiente ecologico esente da formaldeide qui dietro avete anche un piccolo pitogramma dei vari attrezzi che si possono utilizzare o eventualmente le specifiche per la diluizione o quant'altro come opero andrò ad utilizzare questa spatola che è una spatola in policarbonato medio come resistenza media che mi serve per stendere il prodotto in maniera idonea quindi stenderò in una mano il prodotto sulla superficie dando già un po' di lavorazione quindi non farò la classica rasatura ma andrò a lavorarlo già con un po' di movimento tale che mi dia un po' di profondità sulla parete altrimenti risulterebbe una lavorazione troppo piatta questa è la prima fase della lavorazione poco materiale portato bene la stesura fatto questa operazione devo lasciare asciugare per bene la prima mano stesa quindi per bene si intende almeno 6 8 ore in base alle condizioni climatiche ok quindi non abbiamo non abbiate fretta di andare a finire il prodotto come tante volte accade perché comunque abbiamo delle delle tempistiche da rispettare che tutti chiedono velocità nell'esecuzione dei lavori in questo caso dobbiamo rispettare quello che è scusate quello che è la lavorazione classica del prodotto nel momento in cui sono andato ad operare e l'ho lasciato asciugare per bene siamo pronti per dare la seconda mano che non è nient'altro di una ripetizione della prima aumentando la lavorazione dei disegni ma avendo cura di finirlo per bene lasciandolo maturare che assorba e andandolo a schiacciare in modo tale che risulti una superficie totalmente planare quindi questo lo mettiamo da parte ok andremo a prendere un pannello che è questo lo vedete questa sarebbe la prima mano andiamo a fare la seconda che è la stessa stesura chiaramente anche qui diamo un po di movimento e lavorazione però qua lo lasciamo asciugare fin tanto quando non si riesce a schiacciare completamente quindi effetto completamente planare i tempi di attesa per la seconda lavorazione variano dai 30 e 40 minuti anche all'ora anche se serve attenderlo tanto il prodotto non asciuga così velocemente quindi lo stendiamo gli diamo il nostro disegno di lavorazione e poi attendiamo la stesura finale io adesso lo finirò in questa maniera vi farò vedere le altre lavorazioni e prima di chiudere questo intervento lo andrò a schiacciare e a finire posso tranquillissimamente lasciare anche qualche residuo in abbondanza di materiale perché quello sarà il motivo per cui andrò in fase di maturazione a schiacciarlo e a dare un po di movimento ok chiamiamolo un effetto tipo spatolato però con effetti cangianti lo rimetto qua un'altra lavorazione che vi dicevo è l'effetto verticale anche questa è una lavorazione molto semplice da riprodurre come si fa allora in questo caso noi andremo a preparare come vi dicevo il fondo che deve essere completamente liscio ok completamente liscio e sul quale andremo a stendere il nostro prodotto 310 bio smacchiabile è un prodotto ad alte prestazioni che mi permette di rendere la superficie completamente lavabile pulibile in questo caso lo stiamo utilizzando per andare a fare una finitura decorativa cosa mi serve mi serve un pennello questo caso lo spagna il prodotto è sempre il 460 e eventualmente se io volessi dare un tono di luce maggiore potrei trattare il prodotto il 460 con l'inserimento dei decor glitter 850 vanno inseriti una dose di questo all'interno del prodotto e non so se riusciamo a farlo vedere mi dà effetto brillantinato quindi anche questa è una variante come lavoro in questo caso lavoriamo in senso lo vedete verticale andrò semplicemente a stendere il prodotto con delle fasce più o meno cariche di materiale quindi alternando la stesura in questa maniera più o meno prodotto in modo tale che in fase di asciugatura e di assestamento del materiale mi risultino queste fasce verticali il prodotto anche qui non ha problemi avendo il supporto il bio smacchiabile anche su superfici grandi di lavorare in continuità quindi problemi di attaccature di giunte in questo caso non ce ne sono vado a pennellare tutta la mia parete sempre in senso verticale e cercando di dare delle parti più o meno cariche ad altre più scariche questo lo posso fare o in una mano come sto facendo io o eventualmente impostare il disegno con una mano aspettare che asciughi e poi rimarcare le parti dove si vuole intensificare l'effetto con una seconda mano però solitamente noi consigliamo la stesura a una mano e finirlo direttamente eccolo qua chiaramente anche questo deve asciugare un po' in modo tale che io riesca a caratterizzare l'effetto e qui tempi di attesa per l'asciugatura e per la sistemazione dell'effetto sono più brevi rispetto al primo prodotto quindi lo stendiamo andiamo avanti torniamo indietro lo curiamo un attimo e poi lo finiamo eventualmente è una cortezza che è quella che se siamo in due o voglio fare un po' prima utilizzo un pennello completamente asciutto quindi non sporco di prodotto e vado a ripassarlo in modo tale che mi agevoli e mi tolga quel materiale in eccedenza dove lo voglio andare a caratterizzare ecco questo è il pannello chiaramente ancora si può sistemare leggermente bastano 5 10 minuti e questo è il pannello finito che vi ho fatto vedere prima quindi totalmente asciutto effetto verticale l'ultimo effetto che vi farò vedere è sempre un effetto filante che in questo caso noi possiamo lavorare sia in verticale in orizzontale anche qui la scelta di una del senso di orizzontale verticale e in base anche all'ambientazione che andiamo a dove andiamo intervenire quindi sappiamo benissimo che una scelta di lavorazione in verticale mi darà altezza al mio al mio spazio se lo facciamo in orizzontale mi darà la mi darà più larghezza e profondità per comodità io lo lavoro in verticale quindi prendiamo il prodotto il fondo di preparazione come vi dicevo è il medesimo quindi superficie completamente liscia applicazione del bio del 310 bio smacchiabile lasciamo asciugare completamente andiamo a a stendere in maniera in questo caso non più alternata ma uniforme e magari leggermente un po più abbondante il mio prodotto ok sia in verticale o in orizzontale come volete e poi lo andremo a lavorare per fasce ripassando la lavorazione questo caso ripeto in verticale con il mille righe bioicos in questa maniera per avere questa la lavorazione chiaramente su una superficie grande dovremmo avere l'accortezza di adeguarci per fare le strisce le rigature per avere una una corretta applicazione verticale orizzontale che sia di aiutarci o con un battifilo laser oppure con i nastri per avere una porzione che sia sempre più o meno lineare consiglio che do io è quello di lavorare porzioni strette ok 50 barra 60 centimetri dall'alto verso il basso questo vi impedirà di fare giunte e di fare lavorazioni che magari non siano troppo diciamo imperfette ok questo è l'altra lavorazione chiaramente facile e questo è l'effetto verticale orizzontale vi faccio vedere come ultima cosa come vi avevo promesso la lavorazione del del prodotto metallizzato sabbiato dove come vedete andandolo a lasciare riposare lasciando un po' di materiale in accumulo andiamo ad enfatizzare quelle che sono le lavorazioni che la spatola mi fa e questa è la lavorazione finale chiaramente da provare a toccare la superficie perché è un effetto veramente piacevole con questo concludo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo alla prossima volta grazie mille ciao 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 ciao